Non si è fatta attendere la risposta del sindaco di Pescara Carlo Masci dopo la diffida presentata ieri dalla stazione ornitologica abruzzese che aveva parlato di piano antincendio non rispettato dopo il rogo del primo agosto scorso nella riserva d'Annunziana. Il primo cittadino ai nostri microfoni contrattacca e dice che sarà una squadra di esperti a dare le risposte su quanto accaduto. Ma io farò rispondere agli esperti, farò rispondere ai tecnici, farò rispondere a quelli che il piano antincendio l'hanno attuato, farò rispondere anche sul piano di assetto naturalistico che come tutti sanno è stato approvato dalla regione a maggio 2021, quindi è recentissimo. Farò rispondere a chi nel tempo, cioè nei decenni, ha gestito questa situazione al Comune di Pescara, sapendo quello che si poteva fare e quello che non si poteva fare, con un piano di assetto naturalistico che è stato dettato dalle associazioni ambientaliste, perché poi il piano di assetto naturalistico porta le firme di tecnici, di esperti, l'approvazione in Consiglio Comunale, l'approvazione in Regione, c'è il piano antincendi che ha durata biennale e che, mi dicono i tecnici e dirigenti del Comune, che è stato seguito pedisseguamente, ovviamente nei tempi e nei modi previsti dal piano. Poi, sinceramente, l'incendio è partito sotto la collina della Rex. È arrivato in Pineta due ore dopo che l'incendio era scoppiato. Credo che in quel momento tutti si sono impegnati e quindi sentir dire da alcuni, puntare il dito contro i soccorsi, contro gli incendi, contro il piano antincendi. È triste, per me è triste. Io ero lì, sono stato cinque ore, non so dove erano quelli che stanno parlando in questo momento e attaccano tutti, però io ero lì e chiedo a tutti che in questo momento la priorità è la salvaguardia della Pineta e la ricostruzione della Pineta e che le polemiche non servono a nulla, non portano a nulla. Ho visto impegnati tutti.